Al Savini il notaresco ospita il Fano per la sesta giornata di Serie D, cammino simile per entrambe le compagini che dopo un avvio complicato hanno vissuto una netta ripresa sia dal punto di vista dei risultati che del gioco espresso. Il notaresco va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo il colpo esterno contro la Pezzano. Ai box in Tinacelli dopo il cambio forzato nel derby. Bruno ripropone Bonfiglio a sostegno di Belloni in avanti. Iniziale panchina per Ranieri. Scorsini non recupera Zanni, Guerrieri, Brunetti e Serges. In panchina torna Ettore Padovani dopo il lunghissimo infortunio. Dirige Davide Testoni di Ciampino. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla cronaca. I ritmi sono buoni ma le occasioni pericolose latitano nei primi venti minuti, eccezione fatta per la pennellata di Bonfiglio a cercare Ferri che spreca così al terzo minuto di gioco. Al quarto d'ora è sempre Bonfiglio ad offrire tre torri insidiose. Capitan Casella salta più in alto di tutti, senza fortuna. Al ventesimo si sblocca la sfida grazie ad un caparbio a Scipioni che recupera il pallone dal limite della propria aree e fa scattare il contropiede che Belloni trasforma in vantaggio con una stoccata vincente dalla distanza. E' sempre Belloni un po' di minuti più tardi a spaventare Viscovo ma il tentativo risulta debole. Timida la reazione del Fano che si concentra tutta in qualche calcio da fermo battuto da González. Al trentasettesimo Cardinali prova a beffare curtosi fuori dai pali, la sfera gira verso l'esterno. La posizione ibrida di Scipioni crea più di un problema alla retroguardia marchigiana. Al quarantunesimo è la traversa a negargli la gioia personale. Nel finale di primo tempo Di Bartolo riesce a trovare lo spazio giusto per colpire dal limite. Viscovo è attento ed evita un intervallo ancora più complicato dei suoi. Nella ripresa Zammarchi prende il posto di Zingaretti andando a supportare Cardinali e Tencorang. Ma è ancora pericoloso il notaresco in avvio con una girata di belloni sugli sviluppi di un corner. All'ottavo minuto arriva l'inaspettato pareggio marchigiano. Su un corner dalla destra Mancini viene lasciato completamente solo dalla difesa notareschina e batte facilmente curtosi. Il notaresco inizialmente subisce il colpo. Dall'altra parte i ragazzi di Scorsini sembrano aver preso un po' più di fiducia. Ma al ventiduesimo sono i rosso-blui a rendersi pericolosi con Ranieri che sfrutta un buco di Tencorang ma calcia male. L'occasione è dalla scossa al notaresco che torna ad alzare i giri del motore. Forcini è incontenibile sulla sinistra. Cross perfetto per la corrente Marrancone che a botta sicura colpisce il palo. La diabbendata quest'oggi non è favorevole rosso-blu. Alla mezz'ora González da centrocampo spaventa Curtosi che alza in angolo. Gli assalti finali non cambiano il risultato. Alzavini termina 1-1 tra notaresco e Fano. Gara maledetta per gli abruzzesi che però continuano a muovere la classifica.